Allora vai la guardia allora ti ricordi che ti devi affacciare la maniera tra fuori dopo alza la guardia dopo dopo tu fai sei bravo che cazzo dopo è dentro il diretto sempre più guarda bella stiamo in questo ok 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 è ok 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 ecco ok ok ben non ti scoprile, ti allunga, sempre a boberto bene Giorgio, boberto e allungati, affacciati Bene, voi l.....e, poi l учessi da noi potrebbero essere un anglo per voi Vai, vai! A me ne hai portata la carrozza! Ma come va mai? Non vuoi essere capito che lo trovo! E ora! Guarda! Non vuoi stare qui! Occadono! Se tu vai indietro... Se tu vai indietro non carica già due coppie! Se tu vai avanti, che non carica più niente! Quindi quando noi parte con la serie... Oh! Eee! Oppure, parti con la serie... Gli attacchi! Gli attacchi! Gli attacchi! E qua non ti muovo! Non ti muovo! Ma non ti muovo! Ma non ti muovo! Ma non ti muovo! Allora! Tu vai con Francesco! Matteo, ho un primo quadrato! Almeno non ci muovo un altro round di chi! Voi! Paolo! Buongiorno a Mario! Questo è proprio! quello che tu ti è compatuto e tu sei con e tu sei con e tu guarda il piano già lo potrai farsi tutti e poi lo continuo e allora lo stai a fare e tu guarda la tetta e tu guarda la tetta e tu guarda la tetta via 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 e poi tanti a tetta e poi tanti a tetta no dopo avvo passato a me no guarda come è? e io devo fare un po' che ci fa parte prima ci sono un piede se lo fanno da fuoco ma puoi già e se qua puoi non puoi fare un po' per farlo e non puoi iniziare a poter e non puoi iniziare a poter Grazie. 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 Voi. Va. Lava, così va bene. Lava. Venne. Poi, vieni. La mia unione. andando a voi. Come andando a voi. Che, come andando a voi, èiene una cosa uguale. Si? No, no. Vieni, in god��. Si? Va. oh, bravo, così cerca di creare un soggetto non la tengo crea una loro organizzazione non la lanciammi così organizzazione oh, oh, oh metta sempre la loro scopo allora, quindi alzare pure tu alzare dentro e prima volta il francesco ripostate Matteo ora facciamo adesso non è da voi allora, Matteo e poi tu guardate e poi tu guardate 5-2-4 e allora e allora Matteo che posso dire io posso dire che è sempre qui e poi Grazie.